Siamo sempre qui a Real Estate Awards 2017 al termine della seconda tavola rotonda con Gian Battista Baccarin, il presidente nazionale di FIIP, neoeletto tra l'altro. Buonasera Gian Battista. Ecco, parliamo di associazione di categoria e della nuova tendenza del mercato che in questi ultimi mesi è sopraggiunta alla ribalta, ovvero quello di alcuni player di incentivare la disintermediazione. Quali sono le iniziative che FIIP ha preso o ha intenzione di prendere? Noi abbiamo intrapreso un processo di innovazione tecnologica che punta molto sull'aspetto comunicativo e quindi comunicare attraverso strumenti ovviamente legati alle nuove tecnologie come può essere un sistema comunicativo del nuovo sito, del nuovo portale che stiamo mettendo in atto, di una nuova piattaforma informatica attraverso la quale vogliamo comunicare il valore dell'agente immobiliare, cioè quanto sia utile, importante e indispensabile oggi usufruire dei servizi di un agente immobiliare il quale non solo ti fa vedere l'immobile ma al contrario e in aggiunta ti dà tutta una serie di servizi che sono orientati a dare serenità e tranquillità agli utenti e ai cittadini, ovvero fare una preventiva valutazione di mercato che preveda non solo un controllo documentale dettagliato anche tramite professionisti convenzionati ma soprattutto immettere l'immobile sul mercato a un valore congruo che ti consenta appunto di effettuare un'operazione sana, serena e senza problemi. Ecco, parliamo invece di comunicazione rivolta agli associati e agli agenti immobiliari, questo è il primo anno a cui partecipi a questo tipo di evento, la tua recente lezione, cos'era, settembre se non ricordo voi, ecco, questo è il primo anno appunto che partecipi a questo tipo di eventi, qual è la tua opinione insomma su questi incontri e questa occasione di aggregazione? Sono eventi molto molto interessanti e soprattutto utili perché ci consentono di parlarci tra di noi operatori sia diciamo operatori legati ai sindacati quindi alla situazione di categorie rappresentanti di categoria ma anche operatori legati a franchising e in questo caso anche portali immobiliari che per noi sono degli strumenti comunque utili che sono delle opportunità in più che ci consentono di lavorare più e meglio ma rimangono ripeto sempre strumenti perché poi c'è la persona, c'è l'essere umano, c'è la professionalità, dell'agente immobiliare che con la sua assistenza e consulenza appunto riuscirà a garantire il buon esito dell'operazione immobiliare. Ecco, quindi aggregazione che era anche uno dei temi fondamentali della tavola tonda che si è appena conclusa. Lancio una provocazione, quando è che ci sarà la possibilità da parte dell'associazione di categoria di essere ospiti ma nel vero senso della parola quindi coloro che ospitano un'occasione di questo genere e non più dover aspettare un evento organizzato da agenti immobiliari o da professionisti del settore o fornitori di servizi come in questo caso il Real Estate Awards quindi insomma un evento tripartisan da parte di tutte le tre associazioni di categoria che crei proprio un momento di aggregazione e perché no anche formazione per gli agenti immobiliari. Può essere possibile? Un argomento interessantissimo, come dicevi prima io mi sono appena insediato e noi siamo un gruppo giovane che ha tanto voglia di fare entusiasmo e energia, è orientato molto all'innovazione tecnologica ed è orientato molto anche all'aggregazione e all'unione quindi assolutamente aperti a occasioni di questo tipo, anzi saremo i fautori nella consulta interassociativa FIAI FIMANAMA per cercare di organizzare il prima possibile eventi che ci consentono ripeto di dialogare ma soprattutto di far emergere delle proposte costruttive che ci consentono ripeto di essere percepiti utili dalla comunità. Grazie Gian Battista del contributo e allora ci vediamo anche l'anno prossimo al Real Estate Awards 2018. Senz'altro, grazie a te.